è la partita più incredibile o sicuramente tra le prime due io non ci voglio credere bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale il quarantesimo episodio della carriera è finalmente arrivato ed è un numero abbastanza tondo, un numero abbastanza importante per quanto possiamo essere a rilento quest'anno con la carriera sono veramente contento di essere arrivato con il vostro massimo supporto a questo evento di fatto perché comunque 40 episodi non sono pochi, abbiamo cominciato praticamente a ottobre, a fine ottobre quindi sono diversi mesi che andiamo avanti e mi sembrava doveroso aprire questa puntata speciale detto questo possiamo subito passare a guardare il menu perché come vedete in basso a destra Leicester Liverpool 1-0 è la sfida che ci ha rilanciato, almeno speriamo sia così mentre in alto a sinistra vediamo già nel nostro calendario che l'8 aprile giocheremo contro il Manchester City sarà una partita molto importante vinta per 1-0 nel girone d'andata grazie al gol di Villalba quindi praticamente la fotocopia del match che abbiamo giocato qualche giorno fa contro le Liverpool anche se poi contro il City vincemmo se vi ricordate proponerle recupero al novantesimo comunque Ziller vorrebbe un ritocco di stipendio e Rugani ci ringrazia per averlo rimesso in squadra precisa che non pretende di giocare tutte le partite perché abbastanza... cioè quando gioca fa i danni come abbiamo detto nello scorso episodio però comunque qualche partita la vorrebbe giocare la certezza è che quando Manchester City e Leicester si incontrano non ne esce mai una partita noiosa o una partita scontata la speranza è che come nelle ultime due stagioni ci sia la possibilità di tornarcene a casa da Letiand Stadium con tre punti in saccoccia c'è Capucca, riposa Musa ora chiamata avanti subito Alex Sandro al centro Villalba che fa movimento servito Villalba prova ad andare sul pallone Otamendi lo chiude attenzione al giochellino dell'Eister che ha segnato sia domenica scorsa che ha l'andata contro il City le regala il pallone a Robert Hutt che oggi torna in campo due stagioni fa segnò una doppietta qui a Manchester contro il City nell'1-3 nell'anno dello scudetto attenzione a Niang! mamma mia! Mbaie Niang vicinissimo a uno dei gol più belli mamma mia! Jarzi ancora su Coleman bravo Rugani a intervenire non è finita il pallo che favorisce Agüero e Ziller ci mette la mano sinistra lui ce ne arriva Sterling mette giù Peiglici sul mancino chiuso da Pellegrini rimarchio ancora De Bruyne mette dentro per Nengolan Ziller in due tempi occhio a Sandro che riesce anche a far passare il pallone per Niang chiuso il triangolo col brasiliano che incrocia col sinistro Hart non è finita perché arriva Capucca sbaglia il primo controllo Coleman gli porta via il pallone poi De Bruyne scambia con Agüero il City è in difficoltà noi però siamo poco freddi sotto porta siamo nel recupero di un primo tempo molto divertente ma senza gol 0-0 alla fine di questa prima parte di City Leicester e allora tutto rimandato alla seconda parte Pellegrini Capucca di tacco a favorire l'arrivo di Alex Sandro ecco il cross al centro sta arrivando Niang che ci mette il piede non ha segnato in rovesciata ma segna un altro grandissimo gol per il vantaggio dell'Eister all'Ethiad dopo 6 minuti del secondo tempo è 1-0 per gli ospiti mamma mia che bel gol che bella azione corale di squadra e poi la zampata alla Ibrahimovic da parte di Niang che ci ha messo il collo del piede destro non è bastato l'intervento disperato di Company e allora City 0 l'Eister 1 adesso vediamo se Baia è in grado di giocare una partita ancora migliore di quella che stava disputando fino a questo momento è arrivato a 9 gol in campionato con una doppietta andrebbe in doppia cifra ma attenzione dalla parte opposta con Ziller che compie il miracolo su Sterling calcio d'angolo per il City che ha avuto una grandissima chance angolo di De Bruyne Company senza deviazione ha toccato solo lui grande occasione anche per il capitano del Manchester City via via ha ricordato tantissimi palloni Kundogan e adesso si proietta davanti Uth ma la palla è buona ancora per il pareggio del Kun Aguero errore in uscita tanto per cambiare il Leicester sbaglia il City ringrazia va dritto sparato ad abbracciare Pep Guardiola che lo ha lasciato in campo nonostante non avesse giocato un gran primo tempo nonostante si fosse quasi fatto male e qui rivediamo il tutto cross di Kundogan palla messa fuori male raccolta da Clichy e poi Aguero senza pensarci batte Ziller 1-1 che pesa tanto forse tempo di un'ultima azione per il Leicester speriamo Tolisso dentro da Capucca che non ci arriva niente non c'è neanche tempo di ripartire perché non ci sono le forze di ripartire maledizione Boni al cross la prende Ziller ma finisce la partita 1-1 due punti persi due punti persi ditemi se siete d'accordo con me oppure no però se tu che devi staccare il sito in classifica va in vantaggio all'inizio del secondo tempo e poi finisce la partita in parità per un tuo errore difensivo allora per me sono due punti persi mi interessa poco che giocavi da loro che loro magari tecnicamente al centrocampo erano più forti mi interessa molto poco ogni partita è a sé e per migliorare bisogna evidenziare quelli che sono i difetti e non i pregi quindi sicuramente abbiamo tanti pregi ma abbiamo anche tantissimi difetti perché anche oggi sono emerse le difficoltà dell'ultimo periodo quindi questo 1-1 mi lascia molto perplesso spesso in questa stagione Leicester si è trovato a fare passi falsi in campionato e poi a sfogarsi di fatto in Europa League con ottimi risultati così è stato contro il Galatasaray così è stato anche contro il Malaga stasera ovviamente per la legge del non c'è due senza tre vogliamo che sia la stessa cosa ma Leicester scende in campo con 10 undicesimi cambiati rispetto alla sfida contro il City di qualche giorno fa anzi per la precisione 9 di quella squadra sono rimasti soltanto Tolisso e Kanté in mezzo al campo allora eccola qui la formazione delle Leicester Dragoschi Bejerin che non aveva giocato contro il City di Marchennos Zuma e Chilup che sostituisce Sandro poi Tielemans e Junuzovic al centrocampo neanche Kanté quindi erano 10 undicesimi Tolisso Marezzo Brighton poi fallo di Musa si gioca ancora la conclusione 2-0 e Leicester è in vacanza ragazzi Leicester in vacanza 0-2 in casa al quarantesimo segna Denisov che poi esulta in questo modo sotto i suoi tifosi ospiti Leicester 0 locomotive Mosca 2 in delirio il settore ospite del King Power Stadium ma questa azione raffigura come siamo in bambola saltati come dei birilli Leicester irriconoscibile bisogna cambiare tutto all'intervallo serve una bella sveglia ecco i cambi dentro Dembélé al posto di Allbrighton questo il cambio di Uomini ma c'è anche un cambio di modulo perché si passa al 4-2-4 con Dembélé largo a sinistra e Marezzo largo a destra con Tolisso che arretra a centrocampo al fianco di Junuzovic e Musa che sarà il centroavanti di me all'offensivo con per l'appunto Tolisso scusate Tielemans è restato in campo Tolisso che sarà alle sue spalle alla 3-4 quindi vediamo cosa cambia e se cambia qualcosa nelle Leicester Seindolf Jlup riesce a recuperare senza fallo la prima cosa buona di Jlup è arrivata al 50esimo Dembélé dentro da Tolisso sta ripartendo Dembélé Tolisso ormai ha perso il tempo può andare allora da Marezzo lo serve molto bene ottimo controllo di Riyad che vuole tagliare il campo riserve ancora Tolisso che ha calciato bene Leicester ma la palla è sul fondo sempre ad un passo a tanto così da tutto la prende Zuma adesso è tutto un altro Leicester Tolisso dentro da Musa gancio difficile ma tocco di tonno splendido ancora per Corentin Tolisso che ha sbagliato una volta ma non la seconda e allora Leicester rientra in partita al minuto numero 11 del secondo tempo sull'asse Musa e Tolisso la scelta di Marconi per questo secondo tempo è proprio il tandem lì davanti e questo è il ringraziamento dei due in particolare dell'ex giocatore dell'Olympic Leone che fa centro e allora riporta a un gol di distanza il Leicester e la locomotive Mosca Portiaghin occhio al pallone largo per Seindov non lo segue nessuno libero di entrare in edificore e di mettere al centro che salvataggio non so di chi poi rivedremo dopo occhio intanto Andinga Dragoschi in calcio in calcio d'angolo adesso si sveglia il Leicester si risveglia il pubblico perché Dragoschi lo incita quando siamo al minuto numero 65 il Leicester è sotto di un gol 0-2 all'intervallo adesso è arrivato il gol poco fa di Tolisso insiste però la locomotive sempre con Seindov fuori gioco e calcio di punizione per noi Tolisso attenzione a Musa che è partito Tolisso lo ha visto lo serve poi l'apertura per Dembele puntuale con Musa che attacca ancora centralmente servito ottimamente corre Ahmed in edificore fine fondo rientra e calcia in porta Guglielmo poi la porta è vuota sta arrivando Marezza Andinga in qualche modo Musa la palla è sul fondo la palla è sul fondo e Dragoschi non può crederci ma non può crederci tutto il King Power Stadium mentre la regia ci ripropone la splendida risposta di prima su Andinga sempre meno il tempo al termine ma che occasione per le Foxis che adesso devono continuare a crederci Ciorluca ha paura e allontana il pallone forza ragazzi completiamo la rimonta Marezza Tolisso a prendere posizione al centro viene servito come sempre Corentin Tolisso 2 a 2 il Leister non muore mai 20 alla fine tutto in parità doppietta per Tolisso l'uomo dell'Europa League l'uomo della provvidenza che palla di Marezza il Leister ha pareggiato con Tolisso che ha cambiato ruolo gli è bastato giocare 20 metri più vicino alla porta 20 metri più avanti spostato da Marconi che applaude se stesso praticamente quinto centro in Europa League li ha segnati tutti nella fase eliminazione diretta deve andare a rinvio adesso il clima è quasi magico all'Eister palla splendida per Dembele splendida anche il tocco verso Tolisso il secondo soprattutto perché poi Tolisso gli rarità lo fa correre verso il fondo contiene manza al centro la palla messa di azione Guglielmo Guglielmo Seimdov per Shiskin che ha saltato Chilup deve sbrigarsi a rientrare in posizione poi Dembele gliela porta via adesso in transagonistica il Leister con Tolisso per la tripletta è scivolato al momento della conclusione sarebbe stato clamoroso ma sbagliano ancora non ci capiscono più nulla occhio a Dembele che vuole il fondo Dembele ancora è passato con la magia Dembele in rite di gore al centro il pallone non è arrivato nessuno nessuno per la digacione verso la porta incredibile a Leister occhio all'ora perché si continua a giocare con i minuti che sono 79 sul cronometro 2 a 2 il punteggio altro errore l'ennesimo Dembele dentro da Tolisso che ha visto Largo Marez lo serve senza guardare forse era meglio guardare però Leister che continua a provare con la forza del cuore della disperazione Junusovic adesso anche con l'aiuto del pubblico Junusovic dentro il pallone per Dembele nel rigore Dembele c'era Tolisso al centro ed era servito da Dembele con un salvataggio però miracoloso della difesa poi Maicon l'ultimo a toccare è Maicon con un braccio punizione per il Leister con Tolisso che ha avuto la chance della tripletta con il pubblico che incita col pallone di Bellerin dentro ancora Tieleman sul fondo perché 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 errore di misura sul colpo di testa di Tieleman poi Maicon sposta il pallone a 1 non al secondo palla a Marez Leister vuole cercare lo spazio per ripartire 3 di recupero si deve andare con Marchinhos si deve andare col pallone per Tolisso anche il movimento da parte di Musa verso la porta attenzione che corre Musa attenzione che non lo prendono Musa ha saltato un uomo ma sempre Musa che è costretto a tornare indietro però non è finita con Mares che vuole il fallo è largo posizione di quella di Mares che deve andare a traversione arriva ancora verso Tieleman Siorluca prima di Tieleman poi Denisov allontana malissimo nel bene dentro per Tolisso che lotta Tolisso 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 incredibile o sicuramente tra le prime due Tolisso piega le mani al portiere fa 3 a 2 io non ci credo io non ho voce Leicester 3 locomotive Musca 2 incredibile Leicester incredibile Leicester si attende solo il fisco finale che arriva adesso game over game over la remuntata delle Leicester io non ci credo ragazzi ne ha fatti tre Tolisso io non ci voglio credere non è vero e questo questi siamo noi questi siamo noi sfidatemi linkatemi anche altre carriere così emozionanti in Italia e io le andrò a cercare le commenterò metterò like molto volentieri perché comunque è sempre bello guardare un po' tutti ma noi abbiamo vinto una partita illegale clamorosa Leicester 3 locomotive 2 Leicester ha vinto una partita incredibile che a dirla tutta ragazzi mi ricorda anche quel Roma Marsiglia non tanto con l'Everkusen fu incredibile la partita ma non andò così andò così col Marsiglia Roma è riconoscibile nel primo tempo se vi ricordate vi la linko qui sopra nelle schede non so dove perché tanto con la voce che non c'è più io vi saluto è stato qualcosa di incredibile noi ci vediamo tra qualche giorno con il prossimo episodio con la seconda parte di questo fate voi ci vediamo nei prossimi video bella raga no gunshots